Dopo una gara infinita si è concluso il Gran Premio del Mugello che per la prima volta ha ospitato il Mondiale di Formula 1, il copione per la verità non cambia, vince ancora una volta Lewis Hamilton, la Mercedes fa doppietta ma ci sono tanti episodi di cui raccontare, tante cose di cui tener conto in un Gran Premio che comunque ha riservato emozioni e spettacolo in particolare ai primi giri. È stata una gara infinita quella del Mugello perché ci sono state due bandiere rosse, tre ripartenze, safety car infinite per incidenti più o meno incredibili e tutto questo ha appunto allungato i tempi della gara che è durata penso sulle due ore e mezza, quasi tre. In ogni caso parliamo ancora una volta della doppietta Mercedes con appunto la vittoria di Hamilton, novantesima di carriera per l'inglese a meno uno da Schumacher. Quello che però è importante sottolineare è quello che è successo al Via ed è la miriade di incidenti che ha causato appunto la pista del Mugello. In particolare questo è il primo incidente che succede dopo quattro curve e subito c'è un colpo di scena perché viene coinvolto Max Verstappen che era forse uno dei pretendenti quantomeno per il podio, per la vittoria. Oggettivamente era difficile, Verstappen per la verità perde potenza già alla partenza e si ritrova nell'estremità della classifica. C'è un tamponamento a catena che coinvolge Gasly, vincitore di Monza, coinvolge lo stesso Verstappen e anche Kevin Magnussen. E dunque subito tre macchine fuori dopo quattro curve per la rabbia di Verstappen che dunque vede sfumare quello che è evidentemente il secondo posto del mondiale. Una safety car Eternac dura di fatto sei giri buoni, ripartenza succede un casino incredibile, un patatrack clamoroso alla ripartenza coinvolge altre quattro vetture, in particolare Giovinazzi, Grosjean, Carlos Sainz, insomma tante vetture tra cui anche piloti comunque di primo conto, quantomeno delle prime posizioni, in particolare qui è colpa di una Haas che non aveva rallentato e di fatto gli altri piloti non sono riusciti a evitare il pilota che era fermo in mezzo alla pista e questa è la visuale dell'incidente tremendo al rettilineo del Mugello che ha causato una seconda prima safety car e poi dopo una bandiera rossa, la prima delle due bandiere rosse perché poi dopo sui tre quarti di gara un altro pauroso incidente in questo caso capitato a Landstroll causerà una seconda bandiera rossa per tre gare di fatto in un pomeriggio. In questo tre gare però comunque il copione non è cambiato perché Lewis Hamilton ha fatto più o meno quello che voleva, in realtà ha beneficiato il pilota inglese della prima ripartenza dove appunto Bottas era primo ma Bottas come sappiamo non è un mostro nelle partenze, anzi non ci andiamo proprio vicini e poi dopo il pilota inglese ha gestito come quando poteva la gara del Mugello, una gara del Mugello che poteva comunque riservare degli spunti interessanti per via delle gomme in quanto c'erano problemi di degrado ancora una volta sulle pirelli delle vetture. In ogni caso tutti i piloti sono andati molto safe sulle due soste e dunque si è formulato il Gran Premio del Mugello con il podio che andiamo a vedere perché abbiamo detto sì doppietta Mercedes ma festeggiamo il primo podio tailandese della storia della Formula 1 e ci pensa Alexander Albon l'unico superste della casa della Red Bull che comunque se lo merita avendo fatto una signora gara soprattutto meritandosi in pista, questa terza posizione Albon ha fatto dei sorpassi all'esterno molto belli, evidentemente il tailandese va con questo marchio di fabbrica, tanti sorpassi all'esterno per Albon, soprattutto quello decisivo ad anni di Daniel Ricciardo che con la Renault sta veramente crescendo e tornando quel Ricciardo competitivo dei tempi addirittura della Red Bull. È un Gran Premio del Mugello che vede tanti spunti tra cui anche quello della Ferrari che qui correva il millesimo Gran Premio, infatti c'è stata la famosa Livrea Amaranto, in ogni caso i ragazzi della Ferrari fanno abbastanza schifo ancora una volta e non facciamoci fuorviare in realtà dalla posizione dei piloti in pista perché l'Eclerc e Vettel sono finiti ottavo e decimo ma considerato che 5 degli 8 ritirati che ci sono stati perché sono arrivate soltanto 12 macchine in pista andavano davanti alla Ferrari in condizioni normali, parleremmo ancora una volta di una gara anonima di una quattordicesima e una quindicesima posizione verosimilmente. Poi c'è stata anche la penalità di Raikkonen che però non andrebbe a inficiare clamorosamente sul risultato. Una Ferrari che ancora una volta ha evidenziato problemi di motore, c'è una differenza imbarazzante con le altre scuderie 30 km all'area addirittura di differenza tra per esempio un motore qualunque, vedi per esempio il motore Renault che è uno dei motoristi più scarsi dal numero dal punto di vista della appunto fornitura delle macchine considerato che Renault l'anno prossimo fornirà soltanto la sua squadra principale e nessun altro mentre la Ferrari ha ancora una volta evidenziato questi problemi. La macchina è fallimentare, la dirigenza non si è fatta sentire più di tanto evidentemente i progettisti hanno declinato questa stagione 2020 dandola già ovviamente per persa però è una rendevolezza disarmante per i tifosi della Ferrari e non. Per quanto riguarda invece la mia McLaren, Sainz si fa fuori praticamente con l'incidente che ha coinvolto anche Antonio Giovinazzi salva il risultato in qualche modo Lando Norris che con il sesto posto va a hissarsi al quarto posto della classifica del campionato che sarebbe più corretto di in realtà il campionato degli altri. Andiamo però a vedere gli altri risultati per quanto riguarda la top 10 quarto l'abbiamo detto Daniel Ricciardo con una Renault sempre in crescita quinto è Sergio Perez che nel giorno dell'addio alla Racing Point fa un ottimo quinto posto considerato che aveva una macchina non proprio aggiornata esattamente il contrario di quello che aveva Lance Stroll che si è ritirato sesta posizione abbiamo detto il mio Lando Norris settimo torpedo Daniel Chiat che fa la seconda gara a punti consecutiva ottima prestazione per il pilota russo ottava posizione per Leclerc figlia anche della penalità di Raikkonen ma è un ottavo posto che lascia veramente il tempo che trova non la posizione appunto per Raikkonen che appunto complice la penalità è rimasto comunque in zona punti e decimo Sebastian Vettel che finisce terzo ultimo in pista su 12 vetture fuori dai punti Romain Grosjean e George Russell che a momenti ci privava del sorpasso dell'irreparabile ovvero sulla Ferrari che stava andando veramente piano già il fatto che la Williams che è la Carbonella che noi tutti amiamo che è vera e migliorata quest'anno ma non è una macchina fantascientifica diciamo così abbia avuto solo modo di competere in parte con la Ferrari la dice lunga su quanto la Ferrari sia imbarazzante e disarmante per questa stagione la mia McLaren ha fatto una gara interessante per Norris per Sainz non ci sono elementi perché la sua gara è durata praticamente due giri considerato che ci sono state le safety car il rider del giorno però non lo voglio dare né ovviamente alla McLaren né tantomeno ai primi due e che oramai dare il rider del giorno alla Mercedes anzi il driver del giorno non ha assolutamente senso registrare voglio premiare Alexander Albon perché come dicevo nell'introduzione del Racing Podcast il thailandese appunto va a podio è un podio meritato per Alexander Albon che appunto porta la Thailandia al primo podio della storia Albon è il primo pilota thailandese che corre in Formula 1 e Alexander Albon appunto si merita questo podio perché appunto con i sorpassi all'esterno è riuscito a guadagnarsi questo podio in pista e non è scontato per un pilota che è sempre lì sulla graticola da mesi e mesi si parla di Gasly che dovrebbe tornare al posto dell'angolo thailandese e invece questa è una prova di forza soprattutto considerato che il Gran Premio scorso Gasly ha vinto in volata su Carlos Sainz la Formula 1 adesso farà una pausa perché tornerà tra due settimane Gran Premio di Russia-Soci dove evidentemente l'unico motivo di interesse è vedere se Hamilton non solo arriverà verso le 100 pole position anche se ne mancano 5 ma soprattutto se Hamilton arriverà alla 91esima vittoria eguagliando il record di Michael Schumacher è abbastanza scritto che ci riesca perché Hamilton ha soltanto avuto due gare no in tutto questo campionato quarto in Austria 1 e settimo a Monza ci sono tutte le carte in regola per riscrivere il record della storia della Formula 1 peccato che Hamilton corra da solo e l'unico avversario possibile che è Verstappen perché Bottas non è considerabile secondo me è un avversario per il mondiale in quanto compagno di squadra e palesemente seconda guida di Hamilton si è ritirato vedremo che cosa ci darà appunto nel Sochi Autodrome peraltro come abbiamo visto ci sono delle nuove entrate per quanto riguarda il calendario di Formula 1 dopo il Gran Premio di Imola dell'Emilia-Romagna del 1 novembre ci sarà la Turchia doppio appuntamento nel Bahrain ma sul secondo Gran Premio che sarà il 6 dicembre ci sarà la versione corta da meno di un minuto e poi si chiuderà con il solito appuntamento di Abu Dhabi andiamo dunque in Russia con questa classifica Hamilton primo e non poteva che essere così con 190 punti solo 135 Valtteri Bottas e 110 Verstappen che nei due Gran Premi italiani ha fatto veramente pietà ed è a 110 tutti gli altri sono After The Music a partire dal mio Lando Norris che è quarto con 65 punti è comunque una bella lotta per il campionato degli altri se la giocano di fatto la Racing Point se la giocano la Red Bull di Albon la McLaren di Norris anche la Renault con Ricciardo è in queste posizioni importanti e vedremo cosa succederà ci sarà anche la Formula 2 che correrà in Russia non ci sarà invece la Formula 3 di cui andiamo a parlare perché si è chiuso il campionato della categoria inferiore proprio qui al Mugello e c'è dunque il campione della seconda elezione della Formula 3 internazionale ed è lui l'australiano Oscar Piastri pilota del Team Prema team italiano pilota del Renault Junior Team che sta crescendo tantissimi piloti anche in Formula 2 ha avuto tante soddisfazioni Oscar Piastri per la verità fa una gara molto incolore perché la gara 1 la stecca clamorosamente e finisce addirittura fuori dai punti nella seconda salva una settima posizione che basta per salvare un campionato di Formula 3 veramente molto equilibrato che è stato molto più bello e spettacolare di quella che è una Formula 1 che per il momento è soltanto Hamilton dipendente e monocentratica per quanto riguarda invece la classifica di Formula 3 è un campionato che si è rivelato molto equilibrato e in 4 punti ci sono i primi 3 classificati il campione del mondo di Formula 3 Oscar Piastri che non potrà difendere il titolo l'anno prossimo verosimilmente andrà in Formula 2 il pilota australiano 164 punti per lui seconda posizione per Theo Purcher giovanissimo pilota della Art Grand Prix pilota francese a 161 e terzo Logan Surgent che era in testa all'inizio del weekend e paga purtroppo il ritiro soprattutto in gara 2 al primo giro il pilota americano che chiude soltanto a 160 punti è comunque un campionato che ha visto tanti piloti emergenti tanti piloti interessanti andiamo a ricapitolare quelli che sono i podi per quanto riguarda la gara 1 la vince il danese Frederick Vesti che è il terzo pilota della Prema quindi la Prema Racing fa il bottino diciamo delle prime 5 posizioni ce ne sono addirittura 3 nei primi 5 suona per lui Frederick Vesti l'inno nazionale danese che è Der Eritikland quindi la terra adorabile dei danesi seconda posizione per Jake Hughes che è un pilota classe 94 quindi ha la mia età e fa l'ennesimo podio stagionale terzo appunto Theo Pursher che replicherà il podio anche in gara 2 la seconda posizione di gara 2 la prende David Beckman pilota tedesco del team Tynard altra squadra italiana e chiude la stagione di Formula 3 la vittoria di Liam Lawson alla terza vittoria in stagione pilota del team Hitek Grand Prix junior della Red Bull per lui suona l'inno nazionale neozelandese God Defend New Zealand e dunque salutiamo la Formula 3 internazionale che non correrà più per questo 2020 e la rivedremo l'anno prossimo e attenzione perché da questi pilotini ci saranno evidentemente tanti piloti che in futuro possono andare in Formula 1 di certo non in un futuro prossimo ma comunque in un futuro magari più lontano per quanto riguarda invece la Formula 2 non si fermerà al Mugello ma correrà appunto come dicevo a Sochi poi ci saranno le due gare del Baren che chiuderanno appunto il circus della Formula 2 e come dicevo negli altri video se la Ferrari fa schifo nella categoria maggiore nella categoria minore la Formula 2 che è la categoria intermedia diciamo delle macchine ha tanti piloti competitivi del Ferrari lino team Mick Schumacher Carlo Milot Robert Schwarzman in quest'ordine della classifica del campionato Mick Schumacher diventa il leader di questo campionato anche questo molto equilibrato come vedete 161 punti per il figlio di Michael seconda posizione in classifica per Carlo Milot e terza per Christian Lunger che si riscatta e torna di prepotenza in corsa per il titolo del mondo di Formula 2 la gara 1 comunque la vince un russo Nikita Mazepin del team Hitek Grand Prix che va a vincere anche in Formula 2 oltre che in Formula 3 e fa doppietta perché Luca Ghiotto fa il quarto podio stagionale ancora una volta seconda posizione per il pilota Vicentino che è sfigatissimo purtroppo in gara 2 perché il suo campionato di squadra lo centra facendo una manovra folle e lo sbatte in Umbria praticamente Ghiotto finisce in tribuna e deve dire addio a una gara a punti anche nella seconda competizione il pilota Vicentino la terza posizione invece la prende Louis Dele Tra pilota svizzero del Chairuz Racing Team Dele Tra è un pilota junior team della Haas gara 2 invece la vince Christian Lungard in gara 1 ha suonato l'inno della federazione russa risuona l'inno nazionale danese per Christian Lungard che si riapre in piena candidatura per il campionato Dele Tra fa un altro podio seconda posizione per lo svizzero e terzo un gran bel pilota Yuri Vips pilota junior della Red Bull junior team che sta sviluppando tantissimi piloti forti anche qui diciamo che Yuri Vips è un pilota tanto talentuoso un pilota estone quindi in azione nuova nel circuito della Formula 1 e delle categorie propedeutiche è un pilota che è subentrato in stagioni in corso per sostituire Sean Ghalai la pilota indonesiana che si è infortunato e come dicevo negli altri video Vips è un pilota molto talentuoso meriterebbe un sedile per cui federazione dategli un sedile a questo ragazzo vedrete che l'anno prossimo sarà uno dei contendenti al titolo per quanto riguarda la Formula 2 terza posizione per il team junior della Red Bull dunque con il pilota estone che doveva correre in Giappone ma per via della pandemia è rimasto senza sedile è interessante vedere che il podio di gara 2 è monopolizzato da team junior delle scuderie maggiori perché Lundgaard è opzionato Renault Dele Tra è opzionato Haas e Vips è opzionato Red Bull mentre per quanto riguarda i piloti della Ferrari Driver Academy hanno fatto una gara più o meno in colore il più costante è il figlio di Michael Schumacher ovvero Mick che di certo parliamoci chiaro non è un pilota forte è un pilota interessante è un bel talento ma non è una leggenda di questo sport e non ci andiamo neanche vicini e non è nettamente paragonabile al padre non vale neanche tre volte quello che valeva Michael Schumacher in ogni caso è un pilota costante e la costanza fa di solito i campioni delle categorie e secondo le voci il figlio di Michael Schumacher per ovvi motivi non solo di talento potrà finire in Formula 1 l'anno prossimo dicono in Alfa Romeo o in Haas adesso poi dipende come si incastererà il mercato Formula 2 che tornerà a Sochi e chiuderà in Bahrain mentre in Formula 1 vi lascio con la classifica del campionato con Hamilton sempre più primo e sempre più indirizzato a questo settimo titolo del mondo come Michael Schumacher Bottas è tornato secondo in campionato anche se non lo vedo come un contendente per il titolo e ci mancherebbe altro il podio è Hamilton Bottas per Hamilton suona per la novantesima volta God Save The Queen e saluto da parte di Metotorga ci vediamo domani con il prossimo recent podcast oggetto MotoGP Moto Mondiale Gran Premio di Misano quindi San Marino della Riviera dei Rimini